Turismo in calo quest'anno con tendenza verso il Last Mute e al Morde Fuggi. Gli italiani non vanno dunque più in vacanza fuori il proprio territorio di appartenenza, preferendo ormai un'estate al risparmio. Secondo Feder Consumatori infatti, solo il 32% degli italiani si è concesso una vacanza di almeno una settimana con la spesa turistica che è passata al 77 miliardi al 2008 ai 72 dell'anno scorso, mentre quest'anno dovrebbe attestarsi intorno ai 70 miliardi. Un calo complessivo dunque di circa il 22%. Vacanze dunque nel segno del risparmio, sempre scelte low cost, con tante formule dove si può risparmiare. La crisi quindi continua a incidere pesantemente sul portafoglio delle famiglie e rispetto agli anni passati è aumentato di circa 6 milioni il numero di persone che si sono fatte, come dire, le vacanze a casa. Intanto quello che si è concluso ieri è stato il primo controeso d'estivo con ecode e rallentamenti sulle autostrade anche siciliane a causa del persistere del maltempo. In tanti da oggi, intanto, hanno ripreso l'attività lavorativa, chi in ufficio, chi tornando ad alzare le saracinesche. Grazie. 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 Grazie.